Città di Castello, parleremo di economia e sicurezza insieme al capogruppo del PDL Cesare Sassolini. L'economia Tifernate non ha avuto finora supporti adeguati da parte della pubblica amministrazione per un suo rilancio. Ci sono poi aspetti che si legano anche alla sicurezza pubblica, oltre che all'aspetto economico, che sono gli aspetti legati alle produzioni clandestine e quindi anche all'abusivismo. Cioè ci sono da una parte aziende, come abbiamo visto anche nei giornali, che sono state scoperte di produzioni di manufatti che in realtà non sapevamo essere presenti nel territorio e realizzate da alcuni gruppi di cinesi presenti, purtroppo il numero numeroso, parlo di clandestine, anche a Città di Castello. C'è da parte delle amministrazioni un assoluto latitare nel controllo, tant'è vero che quando vengono scoperti, vengono scoperti grazie alle forze dell'ordine locali. Questo crea indubbiamente impoverimento della nostra economia, crea confusione nella produzione, crea anche un aumento di criminalità ed uno sfruttamento del lavoro inaccettabile in tempi moderni. Quindi anche qui una sollecitazione ai sindacati, che spesso si mettono dalla parte giustamente anche dei lavoratori, come è il loro compito, ma non intervengono invece in maniera pesante nel lavoro clandestino, nello sfruttamento e nell'abusivismo.